Va bene, ma cambiamo argomento. Ma perché? Ma perché che era tanto bello? Ah no, in realtà non cambiava argomento. Restiamo in tema coronavirus, perché c'è una notizia che ha un po' del stato scalpore. Sì. Durante il covid, una coppia è stata fermata, durante il covid periodo, siamo ancora durante il covid, diciamo nel lockdown rigido, dovevano portare le autocertificazioni, fermano le forze... A chi? A una coppia. Le forze dell'ordine fermano questa coppia, e la coppia mostra l'autocertificazione in cui c'è scritto che stavano andando a fare dell'analisi. Poi i carabinieri hanno scoperto che in realtà non stavano andando in ospedale. Dunque sono stati denunciati... Perché noi dico che un'autocertificazione è falsa. Falsa, falsa, l'autocertificazione era falsa. Sono stati denunciati, sono finiti sotto prezzo a un processo, ma attenzione, il giudice alla fine della sentenza scrive non è reato, il DPCM è illegittimo. Cioè quindi... Ma come si chiama Erico Montesano questo giudice? No, 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 è proprio un giudice. Sì, perché... Ah, ah. Spiega il giudice di Reggio Emilia che il DPCM non può imporre l'obbligo di permanenza domiciliare, neanche in presenza di un'emergenza sanitaria. L'obbligo di permanenza domiciliare è, viceversa, viceversa, una sanzione penale che può essere decisa dal magistrato per singole persone, per alcuni rati e soltanto all'esito del giudizio. E poi anche aggiunto, e poi queste mascherine... No, questo magari ha detto... A vero, forse è andato un po' oltre questo giudice. Non lo so, perché questa sentenza potrebbe riscrivere la storia della nostra... Cioè noi potremmo in zona rossa vedere gente che esce, presenta certificazione falsa. Sì, vado a Topolò, a Topolini, a Topolò. Ma noi chi siamo per capire? Chi siamo noi? Nessuno. Ma chiediamo una consulenza. A chi la chiediamo? All'avvocato Francesco D'Andria, che è un avvocato penalista del Foro di Milano, che da anni divulga anche su YouTube l'arte... L'arte... Dell'avvocatura. Dell'avvocatura. Sono le sioni, è vero, importanti. Avvocato, avvocato. Buongiorno, buongiorno a voi. Buongiorno. L'arte dell'avvocatura mi sembra, diciamo, eccessiva. Troppo. Diciamo che divulgo in maniera semplice quello che è... Un po' astruso, un po' astruso. Astruso sì, forse, come dire, purtroppo la legge non è mai chiara, però io cerco di semplificarla e... Direi astruso e certe volte, visto le parcelle degli avvocati, anche un altro... Ecco, questa è una leggenda metropolitana, perché sono pochi gli avvocati che fanno parcelle cosmiche, per quanto riguarda un avvocato medio. Va bene, comunque l'importante è che lei, le parcelle, non ce le presentano. Giusto? Oggi è un incontro di conoscenza. Va bene. Ma allora, tornando al caso di Reggio Emilia, cosa succede? Nel senso che c'è questa sentenza, questo giudice che dice che addirittura il DPCM è un semplice atto regolamentare, che quindi non si può essere, come dire... Manca della forza normativa, dice che non può imporre qualcuno a stare a casa. Avvocato, lei capisce che è una responsabilità. Dalla sua risposta potrebbero cambiare le sorti di questo nuovo periodo che stiamo andando a... Cosa ci dice, avvocato? Guardi, io nelle mie arricche dico sempre che noi abbiamo bisogno di giudici coraggiosi e io devo dire che il giudice di Reggio Emilia è stato un giudice coraggioso che tra l'altro io conosco perché io sono dal foro di Milano, però ho fatto un processo, ho fatto diversi processi a Reggio Emilia e in uno di questi ho conosciuto questo giudice. Non fa Montesano di cognome, no. Per ragioni professionali. Prego? No, no, era una battuta. Una battuta uscire a parla. Poi sto parlando di giudice avvocato e gli metti a fare la battuta. Lui sembrava seguire le idee di Montesano. Ma vuoi sapete come si chiama il giudice di Reggio Emilia? Voi lo sapete? No. Come si chiama? Ah, 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 ah. Lui ho pizzicato. Vi ho pizzicato. Il giudice di Reggio Emilia, si chiama De Luca. Ah, ma è parente? Parente? Non è parente però di Vincenzo De Luca, presidente della regione Campania, altrimenti ci sarebbe stato, come dire, dopo la guerra dei Rosi in famiglia... La guerra dei Lucas. Ma questa cosa, se io esco ora e faccio una certificazione falsa, mi posso appellare alla sentenza di Reggio Emilia? Allora, qui però dobbiamo fare una premessa, perché altrimenti i telespettatori vanno in confusione. La premessa qual è? Che il DPCM è un atto regolamentare, cioè una fonte secondaria. Che cosa significa senza essere troppo accademici? È come se figuriamoci una piramide dove alla base abbiamo le consuetudini, che adesso non ci interessano, poi abbiamo i regolamenti, il DPCM è un regolamento, e poi abbiamo a sapere le leggi ordinarie e le leggi costituzionali. Che cosa è successo? Il DPCM va ad incidere su delle libertà costituzionali, ma non lo può fare, perché il DPCM è un atto regolamentare e come tale non può derogare ad una legge costituzionale. Mi direi che ci vanno a fare, che ci chiedono. Quindi noi non dobbiamo presentare il nostro... Attenzione, nel momento in cui non si può derogare, quel DPCM era illegittimo, quindi quella regola che ha fissato lo Stato o la Presidenza del Consiglio è comunque un qualcosa di illegittimo, di indebito, che è contro le regole. Non si può fare. Ma avvocato, ma lei dice queste cose così con una... Scusa, mi scusa, allora i carabinieri perdono tempo a fare controlli e ci fanno scrivere l'autocertificazione? I carabinieri sono un organo, come dire, che vanno a fare quello che gli dicono di fare. E allora che cosa è successo qui? Che, allora, se qui ci fosse un pubblico ministero direbbe, un momento però, i carabinieri hanno pizzicato questa coppia che è uscita di casa senza un legittimo motivo e quindi hanno giustamente incriminati, direbbe il pubblico ministero, e direbbe condannate. Il giudice invece risponde e dice no. E perché dice no? Perché se quel DPCM è un atto illegale che va ad incidere, non lo poteva fare, sulle libertà costituzionali, come il diritto di circolazione o la libertà personale, allora, se la premessa è sbagliata, il risultato non può che essere sbagliato. Il DPCM è legittimo. Qui, allora, avvocato, dobbiamo chiudere perché dobbiamo chiudere, ma questa è per una notizia bomba, questo vuol dire che possiamo fare quello che vogliamo. Lei ci invita a liberi tutti, avvocato. No, io non sto invitando a liberi tutti, io sto invitando lo Stato, quindi chi è che fa, come dire, l'organo esecutivo, a rispettare le leggi di questo Paese. Perché se il giudice De Luca dice proprio questo, dice se noi abbiamo un atto che è legittimo alla base, non si può pretendere un comportamento dal cittadino. E' troppo. E' troppo. Alla, avvocato, avvocato. Un aspetto elementare del DPCM. Purtroppo dobbiamo chiudere, però magari la prossima settimana riaffrontiamo la questione perché mi sembra un tantino delicata. Lei ha gettato sta bomba così come se non la fosse, però è una bomba. Voglio dirle una cosa, guarda, io come avvocato e come cittadino sono seriamente preoccupato per la deriva autoritaria che sta prendendo questo Paese. Perché ha torto a ragione questa pandemia, sta rosicchiando le nostre libertà costituzionali. Perché oggi è la pandemia che dice state a casa, domani sarà... Sì, però poi, avvocato, le passo il numero di telefono di un amico di Siena che è stato due mesi intubato dentro una terapia intensiva e secondo me cambierà idea per quello che mi ha raccontato. Io preferisco vivere così. Ma assolutamente grande solidarietà e grande... Ma non è questo il punto. Il punto è quello. No, il punto è che non c'era un atto di legge che prescriveva questo comportamento. Sì, ma questo è un altro discorso. Un regolamento. Va bene, grazie avvocato. Avvocato, le ringraziamo. A voi, grazie a voi.